Siamo in compagnia di Luisa Pedrini, titolare del marchio Lepo, benvenuta. Parliamo delle nuove tendenze del make-up con un occhio di riguardo al biologico. Il biologico oggi è molto più performante, parliamo naturalmente di cosmetica biologica, è molto più performante rispetto ai cosmetici biologici delle precedenti generazioni. È più performante grazie anche alle nuove materie prime che offre il mercato cosmetico, alle nuove tecnologie di produzione. Il make-up biologico oggi è in grado di offrire delle performance molto simili al make-up di alta gamma, perché ha delle texture molto innovative, che non stratificano, che hanno una gradevolezza decisamente superiore a quelle precedenti. Anche il profumo di questi cosmetici è assolutamente più gradevole dei cosmetici biologici delle generazioni precedenti. Un esempio tra i nostri prodotti è dato dal fondotinta BioLift, che è un fondotinta biologico certificato EcoCert e con un effetto liftante anti-età. La sua texture è assolutamente leggera, ma nel contempo coprente. Dura parecchie ore, anzi tutto il giorno. Non stratifica, non fa grumi, è assolutamente una texture che può sembrare una texture che contiene silicone. In realtà questa piacevolezza nell'applicazione è data da un insieme di oli vegetali, di esteri di origine vegetale, che danno una sensazione molto naturale e anche asciutta, non untuosa, sulla pelle. Grazie a tutti.